Siate cristiani coraggiosi con una vita di orizzonti e di speranza, capaci di sopportare i momenti bui. E non cristiani pigri, parcheggiati, fermi e quindi egoisti, che guardano solo se stessi. È stato questo il forte invito di Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta. Commentando il brano della lettera agli ebrei inserito nella liturgia di oggi, il Papa ha sottolineato che vita coraggiosa è quella del cristiano, mentre i cristiani pigri vivono nel frigo e hanno trovato nella chiesa un bel parcheggio. Laici, preti e vescovi che vanno avanti con tutte le assicurazioni possibili. Sono già in pensione perché non hanno speranza. E questo è il messaggio di oggi, la speranza. Quella speranza che non delude, che va oltre. E dice una speranza che è un'ancora sicura e salda per la nostra vita. La speranza è là. E l'ancora l'abbiamo buttata. E noi siamo aggrappati alla corda. Ma lì, andando lì, questa è la nostra speranza. Non ha a pensare, sì ma c'è il cielo, ah che bello, ma io rimango. No, la speranza è lottare. È aggrappato la corda per arrivare là. Nella lotta di tutti i giorni. La speranza è una virtù di orizzonti, non di chiusura. E forse è la più, la virtù che meno si capisce, ma è la più forte. La speranza. Vivere in speranza, vivere da speranza. Sempre guardando avanti. Con coraggio. Sì padre, qualcuno di voi potrà dirmi, ma ci sono momenti brutti, eh? Dove tutto sembra buio. E cosa devo fare? Aggrappati alla corda e sopporta. Aggrappati alla corda.